Ora continuiamo invece a raccontare il viaggio apostolico di Papa Francesco in Bolivia dopo i giorni intensi che ha visto. Le immagini incredibili della tromba d'aria che ha colpito il comune di Mira, siamo vicino a Venezia. Le vediamo al touch insieme a Laura Squillaci che mi ha raggiunto in studio. Laura, buongiorno. Noi invece dobbiamo dire che ci sono ancora ritardi e disagi sulle metro A e B e sulla ferrovia Roma-Lido, questo nonostante l'annuncio, metro A e B ovviamente di Roma, nonostante l'annuncio dei sindacati di ieri di aver trovato un accordo perché sembrerebbe continuare nei fatti lo sciopero bianco anti-beige dei macchinisti. Sulla vicenda stanno indagando l'autority sugli scioperi e la procura dopo un esposto del Codacons. Code caos però anche a Londra e 3 milioni di pendolari sono a piedi per lo sciopero dei 20 mila addetti alla metropolitana. Il corrispondente Marco Barbello. Le spettatori, ora vi lascio a Di Mattina, trattativa per il salvataggio della Grecia con la richiesta d'aiuto avanzata di Atene nei confronti del Fondo Salva Stati al centro della puntata. Nostri ospiti l'economista Lucrezia Reiklin, la politologa Elisabetta Gualmini e Federico Garimberti di Ansa. Di mattina ora e poi alle 14 dunque di nuovo in diretta con le notizie. Il maltempo sale, il bilancio dei feriti in Veneto. Noi ci torneremo ovviamente anche con il racconto della nostra inviata Magna De Luca e della nostra inviata Caterina D'Oglio. Lo vedete, ecco, Papa Francesco in America Latina, lo vedete anche con l'usilo della grafica, però basta collegarsi al sito www.renews.it. Ora invece parliamo di giustizia. Conferenza stampa del guardasigilli, Andrea Orlando sulla riforma della giustizia e con le altre notizie. Il bilancio sale dei feriti in Veneto dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito la regione. Una vittima confermata. Sale Pro 92, dicevo, il numero dei feriti. Due sono in condizioni gravi. Il governatore Zai ha dichiarato lo stato di emergenza. Allora in collegamento Milva Andriolli. Intanto la riforma della scuola, l'abbiamo detto, che diventa legge. Ora avanti tutta e il focus si sposta su fisco e riforme costituzionali. Questo è ciò che ha già annunciato Matteo Renzi dopo il via libera dell'aula di Montecitore e la riforma della scuola. Allora ci colleghiamo con Senio Bonini in diretta da Palazzo Chigi. Senio.